Ciao ragazzi, seguitemi perché oggi vi mostro una terrazza meravigliosa nel cuore del centro storico di Palermo Questo è l'ingresso ed è proprio su Via Roma Siamo al grande hotel delle Palme, hotel 5 stelle È stato da poco ristrutturato, ma rimane sempre elegantissimo Guardate che bella la hall, vi avevo promesso una bella cenetta? Ecco, seguitemi Si sale sulla terrazza e potete scegliere se accomodarvi sui devanetti oppure fare una bella cena come stiamo facendo noi, ma seguitemi La vista da quassù regala un panorama mozzafiato e si vede anche Church of the Holy Cross, che è la chiesa anglicana che si trova proprio in Via Roma Segnatevi anche questo rooftop se siete in visita a Palermo Passiamo al menù, ecco quello che abbiamo scelto Tartare di gamberi Tempura di gamberi, buonissima Francesco non rinuncia mai al primo, ha preso tagliatelle con pesto di ruccole e gamberi Io invece ho scelto una zuppa di miso con cappelletti ripieni di gamberi Piccola pausa per mostrare gli interni Qui c'è un corner bar dove farsi fare tanti bei cocktail La sala è davvero molto elegante e si presta per ogni occasione Ma torniamo al tavolo perché è arrivato il piatto forte Ecco, sushi buonissimo perché qui siamo da Tribeca E quindi la qualità è top C'è anche la frittatina giapponese che io adoro Tantissime varietà di pesce e super super fresco Per concludere dolci, il loro Ferrero Rocher Il loro tiramisui, una versione un po' particolare a forma di Magnum Davvero molto buono Per concludere ci hanno offerto biscottini e grappa Il video e la cena sono finiti, alla prossima, ciao!